Siamo Angela e Paolo e a bordo di Biagio, il nostro fedele mini Van Blu, stiamo per lasciare la Bosnia. Ovviamente, dopo tutte le mirabolanti avventure e le deliziose pietanze, non potevamo finire senza il botto, anche se magari ci aspettavamo qualcosa di completamente diverso. Vabbè, le mie semper festa e non tutte le ciambelle escono col buco. Ok, basta proverbi. Buon video e iscriviti al canale per non perdere le prossime avventure. E un'ora è passata. E siamo ancora qua. Ah, il gallo. Buongiorno. È una giornata fresca oggi. Ora prende la colazione sul Biagino. Oggi voglio una colazione così. Eh, più o meno, dai. Eh, insomma. Abbiamo anche le mele stamattina. Le mele, pane marmellata e caffè. Cosa vuoi di più? Comunque Angela oggi è un pochino pigra, eh? Sì, oggi sì. Mi sono goduta il letto, lì bella tranquilla. Ha fatto benissimo, direi. Ci siamo goduti l'appartamento. E niente, poi tra un pochino si riparte. Il pane ancora deve stare un pochino. Ma è bello calduccio. Come vi sembrerà chiaro, siamo a Trebinie. Sì, siamo venuti in centro a questa cittadina che in realtà non è neanche tanto grande perché ha solo 32.000 abitanti. C'è da vedere il centro storico e un paio di chiese posti su delle colline che in città. La caratteristica di questa città, che non è in realtà una caratteristica della città, è soltanto la sua posizione perché è a pochi chilometri da diversi luoghi patrimonio dell'UNESCO come Dubrovnik in Croazia e quindi siamo a una trentina di chilometri da Dubrovnik. Kotor in Montenegro e ce n'è un'altra che è anche la... Mostar, che è l'unica che abbiamo visto. L'unica che abbiamo visto. E tra l'altro c'è un'altra cosa che è una vera caratteristica di Trebinie, è il fatto che ci sia un clima fantastico. Ci sono 260 giorni di sole all'anno perché il clima è influenzato dalla vicinanza al mare Adriatico. Ora siamo all'interno delle mura della città vecchia. La città è veramente molto più interessante di quanto pensassimo. Alla fine non era una tappa che avevamo programmato, invece ci sta stupendo molto. Diciamo che l'abbiamo aggiunta per allungare un po' il nostro soggiorno in Bosnia. Questa è la verità. Non volevamo rimanere. E non vogliamo neanche andarcene perché ci è piaciuto tantissimo questo paese. Quindi stiamo cercando di allungare sempre di più trovando piccole cose. Poi tra l'altro il tempo adesso è dalla nostra perché c'è un sole bellissimo, si sta bene. E quindi questi ultimi giorni proprio ci tengono ancora più attaccati a questo paese. Poi in questo periodo non c'è molto turismo, non ci sono molte persone in giro, è tutto molto tranquillo. Poi di fronte a noi c'è questa piazzetta. Quasi non si vorrebbe rimanere qua. Tutto pomeriggio qua. Tutto pomeriggio. Questa è una chiesa ortodossa. Ne abbiamo visitate molte nel nostro viaggio in Bosnia. E una delle caratteristiche è che non ci sono sedute, si sta sempre in piedi. Questa è la mia caratteristica. La mia caratteristica 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 è la mia caratteristica. Il pranzo di oggi. Questo è un burger rosso con il pane rosso, molto interessante e anche la pizza. Dice pizza e le verdure. Buon appetito. Non è un caso e questo è un momento Paolo, è arrivato il momento Paolo, quante cose lui ci spiegherà, non troppe, però ecco il nome Trebinie probabilmente narra la leggenda che venga da un Trebien che Napoleone ha detto quando si è trovato in queste terre e quindi da lì è nato questo nome Trebien, questo Trebien, è molto francese, infatti ero rimasta ammaliata dal tuo accento francese. Trebien e poi in pieno centro compare questa barca abbandonata, completamente arrugginita e di fronte al museo dell'Herzegovina Ok, adesso basta, non possiamo andare avanti così, veramente, veramente, basta dobbiamo andarcene dalla Bosnia, se no finisce che ingraziamo di brutto Allora, questa è una coppa di gelato con un sacco di frutta e la panna e di tutto sopra E no, ma quello che scandalizza di più è questo, ancora una volta ragazzi la Bosnia, 2 euro abbiamo speso in tutto, 2 euro tutto questo con acqua compresa perché non si sa mai, anche poi ti affoghi con tutta sta roba E' sempre meglio avere un po' d'acqua vicino Basta, dopo la Bosnia sarà assolutamente dieta Facciamo una piccola spesa prima di lasciare il paese, siamo venuti al bingo supermarket hyper hyper, questo qua è bello grande infatti Adesso va, lo riprendiamo, bello grosso Questa è la catena di supermercate più grande di tutto il paese, i prezzi sono anche abbastanza bassi e poi ci sono anche un po' di cose interessanti Angra vuole prendere dei pop corn? Eh Ma è piccolina no? Cioè sia piccola che grande, guarda E dai, prendiamo una pochino più grande Questa grossa è mezzo chilo di pop corn ci durerà una vita C'è un sacco di frutta secca dappertutto qui, tutta la zona della frutta secca Guarda, questi qua sono fagiolazzi e poi tutta questa frutta secca Ma racconto, non sono i fichi Oh Fichi secchi, no, buonissime Ma anche la... troppo dolce, troppo dolce Datteri Mi cadono i denti, eh No, vuole, ma andrò di tutto C'è anche il kiwano Cos'è sto kiwano? Qua si deve pesare la roba autonomamente Ma non si capisce molto Perché il numero qua non ce lo dobbiamo fare È il 93 Solo che mettiamo 90... No, non avevo già me No, no, questo No, no, questo No, no, no C'è un casino No 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 Dove chiedere aiuto Allora Ah, ok, 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 ok Voilà La lingua non aiuta molto, eh Ricchero lo spagnolo Ma invece Vuoi i cachi, dai Sì di stagione Ma che belli che sono Papi Un po' di corto Comunque sto pronto Anche i mandarini sono di stagione Vuoi assaggiare come questo? Facciamo l'assaggio? Vai No, perché l'ultima volta che li abbiamo presi Erano un po' acidini, eh Acidissimi, vai Anche questo mi fa Ok Va bene No, anche Lasciampe Su tanti prodotti Qua in Bosnia Ci sono proprio Sono proprio prodotti italiani Comprami Comprami Sono l'asciuga tutto Veramente molto lungo 200 strappi garantiti Queste sono le caramelline più diffuse Di tutta la Bosnia Le troviamo dappertutto E sempre ce le danno Con il caffè Eccole qua Queste qua sono Con le noci Le abbiamo presi una volta Ma in realtà non ci sono piaciute tanto Mi sa che queste qua Sono molto meglio E Tipo per un bel pacchetto Da 200 grammi Di Rat Colum L'Oclum Si spendono 50 centesimi Altro reparto che va per la maggiore È quello dei biscotti E Tra i biscotti Ci sono un sacco di wafer Che da noi si chiamano wafer Ma qua si chiamano tutti Napolitanche 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 Guarda quanti Sono tutti napolitanche All'arancia All'arancia Napolitanche Ma c'è anche la torta napolitana Che è una torta fatta di wafer Questo è il reparto carne E anche prosciutti Praticamente è una distesa di plastica E carne ricoperta da plastica E invece la Bosansky Bosansky su La nutella qua ragazzi Ha un sacco di concorrenti Io non ho mai visto tutte ste nutelle Comunque posso partire Cos'è questo? No È un barattone No Di crema al cioccolato Ma scusami Ma sembra Sembra il secchio per andare A pitturare Del pitturare Anche la maionese qua È una roba seria A quante Reparto importante Reparto del caffè Ci sono Tre tipi di caffè Quello solubile Da questo lato Poi di qua abbiamo Quello stile Bosniaco Barra turco E poi Il caffè normale Quello espresso Noi che cosa prendiamo Angra? Sono in difficoltà Allora Io vorrei prendere Quello bosniaco Sì Visto che stiamo uscendo dal paese Così ci rimane anche Prendiamo questo Guarda vedo un buon prezzo Vedo un buon prezzo Però sono 100 grammi Piccolino Piccolino La pasta Stiamo andando proprio sui classici C'è una vasta selezione della barilla Ovviamente D'altro anche un prezzo abbastanza citabile 80 centesimi Per mezzo chilo di pasta Chiaro che in Italia Questo è un pochino meno Ma fuori È difficile trovare i prezzi D'Italia E c'è anche La versione senza glutine Ah pure qua Perfetto Ottimo Anche integrale E poi ci sono tutte le marche Del luogo Noi in realtà abbiamo provato Questa a Righi E ci è piaciuta Ci è piaciuta E anche qui Quelle che non sono italiane Ma quelle locali Sono 400 grammi Anziché 500 Come in Messico Mannaggia Ma come potete farci questo Ma come potete Ma i 400 grammi Mi scombinano tutti i piani Perché noi in genere Mangiamo metà pacco da 500 250 grammi Lo so che è un pochino troppo In realtà Come porzione Però Guarda come si fa felice la bambina Guarda Con la palenta La palenta Guarda Angra Com'è felice La bambina Con la salopetta Era un po' meno bionda io Questa la prendiamo di sicuro Più o meno La palenta La prendiamo Vai in palenta E sì su quelle pronte In due minuti Lo so anche questa ragazzi Non si fa Devo dire la verità Il goulash in scatoletta Mi tenta Guarda Questo qua È quello che viene Che vediamo sempre comprare Dalle persone del posto Vediamo sempre Con la borsetta Con dentro questo pane In forma di fiorellino Lo prendiamo Sì dai Questa è una grande trovata Di marketing Per gli appassionati Di viaggi su ruote Questa mini rullottina Marca Poi Vendono i plasma Ma sono i plasmon Ci sono ovviamente Anche i pentolini Per fare il caffè bosniaco Qua tutti belli Sberluccicanti E c'è quello grandissimo Che costa 38 marchi Cioè 20 euro Invece quello più piccolino Questo qui in argento Che costa 5 euro C'è la versione moderna Che carina Sì io preferisco Quella tradizionale No? No Anche la costa qua Sono sicuro Che non la sai dire È difficile Siamo arrivati All'Erzegovacka Gracianizza Questo bellissimo Monastero Serbo-ortodosso È stato costruito Sulla collina Nel 2000 Ed è una copia Del monastero Costruito in Kosovo Siamo venuti a vedere Questa chiesa ortodossa Sulla collina Che ha questa vista Sulla città Guarda che bel colore C'è stato appena Da pochissimo Il tramonto È appena sceso il sole Adesso si sta colorando Tutto il cielo di rosa E' stata appena sceso E' stata appena sceso Tutto il cielo di rosa È bambina E' stata appena scesa perfetto allora ragazzi siamo appena ripartiti e stiamo ufficialmente per lasciare la Bosnia tra una mezz'oretta circa saremo in Croazia 31 km 38 minuti Dubrovnik è la nostra tappa di oggi la prima tappa che facciamo realmente in Croazia perché l'altra volta siamo passati proprio velocemente siamo scesi abbastanza veloci e invece adesso ci fermeremo in questa cittadina e vediamo un po' di esplorare un po' il centro storico tra l'altro oggi ci sono un bel po' di nuvole vediamo magari al mare perché la Bosnia dispiace anche a noi però dai si tornerà siamo vicini e poi ce la siamo vissuta anche se noi stiamo andando ce la siamo vissuta per bene quindi direi che torneremo di sicuro ma tra un po' di tempo ah però questa è la prima volta che vediamo un cartello mine sì esatto qui in Bosnia ci sono moltissime mine inesplose però non avevamo mai visto il cartello che indicava appunto questa cosa vedete c'è scritto mine in alto e sotto c'è il simbolino insomma qua non andremo a fare un'escursione alla natura direi di no non ne vale proprio la pena tutta praticamente tutta questa zona che costeggia la strada per entrare in Croazia è piena di questi cartelli abbiamo già visto il terzo cartello sì ed è davvero impressionante che ci sia ancora questa situazione proprio perché la guerra è stata così recente è così pesante è così pesante come era un altro il quarto il mare il fondo l'abriatico eccoci è così pesante l'altro 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 è così pesante è così pesante Ragazzi stiamo avendo qualche problema Perché ci dice che C'era da registrare qualcosa Non abbiamo capito Adesso stiamo andando a vedere cosa dice Cosa dice? In pratica bisogna pagare le tasse Per ogni giorno che stai in Bosnia Se stai oltre i tre giorni È un euro al giorno di tassa Per quale motivo? È come la tassa turistica Ok Quindi come turisti Se stai fuori da un hotel Devi comunque pagare la tassa E questo però non è scritto da nessuna parte Sul sito Viaggiare sicuri Non c'è scritto Border crossing c'è scritto Secondo lui c'è scritto Ma noi non abbiamo trovato niente Nessuna informazione del genere Ci hanno chiesto 55 euro Per questa tassa di soggiorno Vediamo Questo proprio ragazzi Non è scritto da nessuna parte Nessunissima parte Abbiamo ricontrollato anche il sito Viaggiare sicuri Abbiamo ricontrollato tutto Posso dire la verità Mi aspettavo molto peggio Perché siamo stati quasi un mese In due Esatto La tassa è un euro al giorno Quindi più o meno siamo lì È tornato il poliziotto di frontiera E ci ha chiesto il nome dei nostri padri Nostri padri My father's name Father name È l'indirizzo in Italia Il nostro indirizzo in Italia Ragazzi Non so che dire Tra l'altro Non ci sono informazioni online No abbiamo cercato Ricercato Loro dicono che c'è un Sul loro sito Dice questa cosa In realtà non abbiamo trovato Assolutamente niente Questa tourist tax Da pagare per ogni giorno In cui si sta in Bosnia È circa un euro più o meno Un euro al giorno A persona A persona Ci sono due euro al giorno Forse ragazzi Non lo sappiamo Vabbè Vabbè la multa sarebbe di 55 euro Quindi se è vero No totali Non è neanche una multa in realtà Se è vero Semplicemente si paga la tassa E basta Sì Vabbè Gli abbiamo chiesto Ci potete far vedere per favore online Dove è scritto Perché almeno lo sappiamo Perché noi non abbiamo trovato niente Perché noi l'avremmo pagata Senza problemi Perché un euro al giorno Non è tanto Né su Viaggiari Sicuri Abbiamo trovato niente Né sul loro sito Abbiamo trovato niente Quindi gli ho chiesto Se ci può dare questo link E l'ho detto I know I know I know Lo sanno già Che non c'è questa informazione Da nessuna parte Quindi vediamo che cosa succede Però noi adesso hanno tutti I nostri documenti Passaporto Libretto della macchina Tutto quanto Cioè Chi l'avrebbe mai detto Sembrava una frontiera Veramente banale Perché all'entrata Non ci ha detto assolutamente niente Nessuno All'uscita la tassa Da pagare Vediamo come si risolve Questa cosa Adesso è già 20 minuti Che siamo qui Mezz'oretta Aspettiamo Dopo una lunga ricerca Abbiamo trovato Su un sito Del turismo svizzero Che però è evidentemente Più informato Del nostro Bisogna annunciarsi Entro un tot di tempo 12 ore dall'entrata Del paese Bisogna andare a un posto Di polizia locale Per annunciare Il proprio ingresso Quindi si può anche Viaggiare senza pagare Questa tassa giornaliera Che in genere Si paga Quando si prenota Un hotel E basta appunto Registrarsi Entro 24 ore Dall'ingresso Alla polizia Alla polizia locale 12-24 ore Cosa che noi non abbiamo fatto Perché non lo sapevamo Però abbiamo visto Che bisogna farlo Anche in Montenegro Quindi ci prepariamo Andremo a farlo Entro 12 ore Dall'ingresso Del paese Bisogna andare A una stazione Di polizia Più che altro Che avere Cioè A noi non interessa Questa cosa Lo facciamo tranquillamente Non ci sono problemi Abbiamo tutto il tempo Del mondo L'importante è avere le informazioni Le informazioni Abbiamo letto Riletto Il sito Della Farnesina Viaggiare sicuri Non parla assolutamente Di una tassa turistica Non dice nulla Abbiamo cercato Anche sul sito Del touring club Italia Non c'è niente Ragazzi Niente Anche in inglese Ci sono pochissime informazioni Adesso A furia di cercare È uscito questo sito svizzero E niente Adesso siamo in attesa Tanto stiamo ancora aspettando Praticamente non stiamo pagando La tassa di soggiorno Ma stiamo pagando Questa che è una multa Sostanzialmente Multa Multa Al confine E un'ora è passata E siamo ancora qua Prima Paolo ha provato a scendere Per andare a lieto No 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 aspetta Torno in macchina Torno in macchina Aspetta in macchina E quindi siamo ancora qua Da un'ora Qua fermi Ad aspettare Qua è arrivata la pioggia Intanto E qua abbiamo Pacato Mannaggia Abbiamo pagato Abbiamo pagato praticamente 50 euro in due Perché abbiamo pagato subito Se invece Non avessimo potuto pagare subito Avessimo potuto pagare dopo Avremmo pagato esattamente Il doppio Invece Invece 50 euro Sarebbero stati 100 euro in due Per fortuna Avevamo Con noi i contanti Quindi Abbiamo pagato in euro Niente Così Il signore si è anche dispiaciuto Perché I'm sorry I'm sorry Gli ha detto Noi non sapevamo niente E poi Purtroppo non ci sono tante informazioni E niente Si siamo beccati questa multa Esatto Adesso lo sappiamo Tutti i prossimi paesi Staremo molto più attenti E ci informeremo bene Alla polizia locale Ancora però Non siamo entrati in Croazia Esatto Ancora un pezzo Andiamo al confine Croato Sinistra Sì Dubrovnik Sì 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 Ok Ingresso in Croazia Tutto semplice Veloce Fatto Mi capita mai quando siete in una città Stata da ascoltare? I prezzi qui sono veramente imbarazzanti Siamo praticamente in mezzo a delle rovine Di giorno vabbè Di notte Tu lo faresti? Sì 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 Sì